Live Social Continua la notte di Radio Lombardia sempre alla frequenza 100.3 con Live Social qui accanto a me c'è ovviamente il nostro prossimo ospite Lorenzo Paoli, buonasera Ciao, buongiorno Allora Lorenzo, tu sei un coach, giusto? Sì, esatto Allora, intanto ti chiederei un attimino velocemente di definire un po' la tua figura cioè il coach in generale di che cosa si occupa? Ma guarda, facciamola molto breve, il coach aiuta persone e organizzazioni a raggiungere obiettivi Ah ok, perfetto Molto semplicemente Quindi quando hai un obiettivo che non riesci a raggiungere, un coach può essere diciamo un aiuto Sì, esatto, esatto, senza pensare ai coach motivatori o quelli che ti fanno fare la camminata sui gabarini a denti perché non sono lui, no? No, certo Quindi coaching fatto bene Perfetto, coaching fatto bene, questo è quello di cui ti occupi tu almeno Speriamo, speriamo Esattamente, allora oggi parliamo un poco dell'attività che tu fai con i liberi professionisti perché effettivamente ultimamente la realtà del libero professionista sta crescendo molto e stanno aumentando effettivamente le partite IVA rispetto al lavoro dipendente che si pensava una volta, no? Beh, in America hanno definito questo periodo come la freelance economy, no? Quindi ci sono sempre più freelance un po' anche costretti dal fatto, no? Dal mercato Dal mercato, però è anche una grossa opportunità per molte persone per in realtà posizionarsi bene sul mercato e fare forse un lavoro che piace di più È vero, è vero, è vero, riuscire a trovare la propria dimensione Di solito quando sei in un lavoro da dipendente capita che magari fai quello che ti piace ma fai anche quello che non ti piace Sì, esatto, esatto, esatto E invece il libero professionista dovrebbe essere anche un professionista libero, no? Anche al contrario Esattamente A volte invece purtroppo non è così soprattutto perché i freelance, specialmente in Italia devo dire si impostano il lavoro da libero professionista un po' come se fossero dei dipendenti per cui aspettano il lavoro, si affidano solo al passaparola, eccetera Per cui esistono in realtà tantissime opportunità per crescere Beh, oggi siamo nel mondo digital fra l'altro, no? Quindi basti pensare anche solo ai social network che sono un canale di comunicazione fantastico per chi vuole promuovere la propria figura come professionista, no? Ecco, e questo è un primo punto debole dei freelance Moltissimi freelance ancora sono praticamente invisibili su internet Pensa che praticamente tutti i freelance hanno magari un sito web tra quelli più conosciuti, diciamo, come WordPress però molti freelance ancora magari non hanno neanche la foto sul sito web cioè è giusto per capire ancora quanto siamo un po' indietro, no? Con la comunicazione Il che è paradossale perché se ci pensiamo un attimo, se a te serve, che ne so, un idraulico dove lo vai a cercare? Non vai mica a bussare porta a porta Bravissimo, bravissimo Infatti io faccio sempre l'esempio, no? Immagina di esserti trasferito in una città nuova Ti serve un calzolaio Cosa fai? Apri Google, no? Sì Quindi se il calzolaio non è su Google si perde migliaia di clienti che tra l'altro sono fidelizzati perché poi rimani col calzolaio E sì, poi una volta che sei nella nuova città e hai beccato il calzolaio magari ti lavora bene e dici basta, è inutile che ne vada a cercare un altro Esatto Però la differenza tra chi è su internet e chi non è su internet è il 100% cioè il 100% dei clienti vanno col calzolaio che è su Google Ebbè è chiaro, certo Quindi non è una piccola differenza e ancora molti professionisti questo non hanno capito Ecco, tu in quanto coach come cerchi di dare una mano da questo punto di vista? Ma allora in questo caso mettiamo insieme la parte di coaching che è più una parte di comunicazione con la parte di strategia web quindi noi creiamo dei corsi per formatori soprattutto online e poi facciamo degli eventi live per ad esempio sfruttare meglio il sito internet piuttosto che comunicare sui social piuttosto che fare video posizionarsi su internet eccetera in modo che le persone abbiano quella base per riuscire poi a sfruttare molto meglio internet Beh sì, è chiaro bisogna dargli un po' degli strumenti che poi possono sfruttare spesso quando ci si approccia al mondo della comunicazione ti ritrovi nelle mani di queste agenzie che fanno tutto loro però poi tu alla fine non hai degli strumenti tuoi, no? Allora le agenzie web possono essere molto utili in realtà però all'inizio un freelance magari non ha neanche un budget per l'agenzia Tra l'altro sì e in realtà a volte non serve così tanto servono anche alcuni accorgimenti molto semplici sicuramente la comunicazione tipo fare articoli, fare video è oggi importantissimo beh, chiaro pensa che il 70% dei nostri clienti tra l'altro anche multinazionali quindi contratti grossi ci prendono dicendo ti ho visto in video beh sì è vero perché uno guarda i tuoi contenuti si fa un'idea un poco di quello che sai quello che sai fare quello che dici come ti poni e poi dici ma fammi andare a vedere che cosa fa questa persona esatto e tra l'altro alcuni potenziali clienti interessati possono scremarti nel senso che dicono no questo non mi piace che è un vantaggio perché è così non fai preventivi inutili non fai negoziazioni inutili vedi già dei clienti che quando ti chiamano sono clienti già diciamo caldi come si dice nel marketing beh sì è un punto di vista interessante cioè da te arriva chi ha già un certo interesse verso la tua figura professionale a volte senti che hanno già scelto pensa che noi abbiamo una scuola che fa una delle scuole più grandi di coaching in Italia si chiama Coaching University e noi diamo 10 video con 10 piccole sfide di coaching e vediamo che se la persona ha visto tutti i 10 video al 99% si iscrive al corso che è un corso da circa 3.000-4.000 euro per cui immagina quanto potente può essere il video se ovviamente è fatto bene beh sì perché uno si guarda quei 10 video che minutaggio hanno più o meno 2-3 minuti 2-3 minuti se no non li guardano beh certo si guarda quei 10 video e dice ma sai che sta roba mi interessa e ci investe giustamente no? sì sì ci saranno sicuramente qualcuno che magari si guarda 2-3 video e dice no non mi piace no? e a noi va anche bene perché così come dicevo prima scremiamo un po' di pubblico per cui va bene allora Lorenzo tu hai un sito internet che è LorenzoPaoli.me giusto? sì esatto ma parlando di video è anche un canale YouTube ti troviamo come LorenzoPaoli sì che cosa c'è nella tua dimensione video? cioè che cosa condividi? di cosa parli? ma nel canale YouTube c'è solo il posizionamento per i freelance per cui abbiamo anche altri canali YouTube per le multinazionali però in quello LorenzoPaoli parliamo di strategie di posizionamento strategie di digital marketing di comunicazione tutto quello di cui ti sto parlando per cui sono video proprio educational si dice cioè video dove puoi imparare a fare qualcosa magari sul tuo sito come comunicare meglio certo piccoli suggerimenti in pillole che possono dare una mano no? sì assolutamente senti ci sono altri errori frequenti che trovi nei freelance? abbiamo parlato prima della poca presenza online che sicuramente è un nodo interessante ma c'è qualcos'altro che ti capita di incontrare molto spesso? due errori fondamentali di cui ti posso parlare sono questi uno è che i professionisti ancora sono tutti uguali quindi immagina l'agente immobiliare sono tutti uguali immagina un avvocato sono tutti uguali si atteggiano anche in modo uguale per cui uno quando deve sceglierli di solito come scegli? se non hai idea di qual è la differenza scegli col prezzo compri quello a prezzo minore i freelance si lamentano di questo senza pensare che sono loro un po' anche la causa e un altro problema è il fatto del passaparola che in realtà è una trappola molti libri professionisti ci dicono io faccio col passaparola ma in realtà se ci pensi se io ti consiglio a qualcuno vuol dire che quel qualcuno vuole essere trattato bene che vuol dire che devi farti pagare meno e io mi affido a te per cui tu devi stare attento a fare un buon lavoro per cui sei tra le incudine e il martello il passaparola non sempre è una buona cosa quindi insomma fateci attenzione si esatto cioè affidatevi anche ad altri strumenti oltre al passaparola Lorenzo Paoli Coach ti troviamo così su Instagram e come Lorenzo Paoli invece ti possiamo cercare su Facebook volendo possiamo contattarti all'indirizzo mail novalab-novazia.it o al numero di telefono che è lo 0287-3432-36 il tuo studio infine è in piazza 4 novembre al numero 7 ovviamente qui a Milano io Lorenzo ti ringrazio di essere stato con noi grazie a te è stato un piacere averti come ospite e ai nostri ascoltatori invece ricordo di rimanere qui su Radio Lombardia alla frequenza 100.3 ovviamente continua live social fra pochissimo ci troviamo con una nuova intervista mi raccomando non mancate live social ciao 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 ciao